Resta un mistero il terzo mandato per i sindaci dei comuni intermedi. Il governo ancora non ha approvato l'apposito decreto e cresce il nervosismo tra i partiti della maggioranza dove in atto un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia da una parte e Lega dall'altra con in gioco anche le candidature dei governatori e su questo tema in serata si è registrata una nota di Matteo Salvini che si augura che la prossima settimana la questione possa essere risolta. Intanto nell'Aretino la situazione di stallo interessa comuni medio-grandi come Castiglion Fiorentino, Foiano, Terronova, Bracciolini dove ci sono delle realtà locali tutte da interpretare. In Casa Lega intanto c'è grande soddisfazione per la disposta data dei soci sostenitori che hanno conosciuto una impennata soprattutto a Castiglion Fiorentino con un più 74%. Grande la soddisfazione espressa dal segretario provinciale Gianfranco Vecchi. Siamo un partito in salute a dichiarato. Intanto c'è anche grande attesa cortona per la prima di Andrea Vignini che domani mattina verrà ufficialmente presentato nella sala dei convegni a Camucia. Vignini guiderà la lista del centro-sinistra.